Antonio, diamo il buongiorno a Patrizia Clemente, che è dirigente della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell'INAIL. Grazie per essere con noi e benvenuta. Parliamo con lei della assicurazione obbligatoria INAIL contro gli incidenti domestici. Ci sono tantissime persone, specialmente donne, che si occupano della cura della casa e che svolgono questo lavoro in maniera abituale, però senza vincolo di subordinazione, cioè si occupano solo di quello, quindi in maniera esclusiva, senza vincolo di subordinazione. Questo tipo di tutela assicura dai rischi che possono derivare da quel tipo di attività. Quindi cerchiamo di capire chi si deve assicurare contro gli incidenti domestici. Di che categoria di persone stiamo parlando? Bene, buongiorno a tutti. Stiamo parlando di tutte le persone che svolgono attività domestica all'interno della propria dimora. La legge che ha istituito l'obbligo assicurativo contro gli infortuni domestici è una legge che risale ancora vent'anni fa, nel 99. Ed è una legge particolarmente interessante perché è stata la prima legge, non soltanto in Italia, ma addirittura anche a livello europeo, a riconoscere una dignità al lavoro che viene svolto dalle casalinghe. La particolarità di questa legge è non soltanto il valore sociale del lavoro svolto, ma anche il fatto che abbia esteso l'obbligo assicurativo a tutti coloro che svolgono il lavoro domestico, a prescindere da ogni distinzione di genere. Quindi noi abbiamo assicurate sia le casalinghe e anche i casalinghi. Però il titolo qual è? Cioè uno si deve occupare prevalentemente della casa senza avere un altro lavoro? Sì, in realtà non bisogna svolgere un altro lavoro che dia diritto al versamento di contributi previdenziali. Se io mi occupo di casa mi devo assicurare. Se io mi occupo di casa, io mi occupo della cura dei miei familiari, mi devo assicurare. Mi devo? Mi devo perché è un'assicurazione obbligatoria, mi devo assicurare. In realtà poi ci sono degli altri requisiti. Innanzitutto bisogna avere un'età che è compresa tra i 18 e i 67 anni di età. Bisogna appunto svolgere questo lavoro gratuitamente, senza vincolo di subordinazione. Quindi tutto quello che è il mondo delle colfi è ovviamente fuori. Si deve svolgere all'interno della famiglia ed è assicurato non solo il lavoro che si svolge all'interno della casa per prendersi cura della casa, ma anche tutta l'attività che è legata all'attenzione e alla cura dei propri figli. Quindi congiunti, familiari. Anche in questo caso la legge è particolarmente nuova rispetto, considerando che stiamo parlando di una legge di 20 anni fa, perché in realtà quando si parla delle persone di cui ci si deve prendere cura, non è soltanto coloro che sono legati da un vincolo di matrimonio, ma in realtà è una legge innovativa, perché riguarda anche rapporti di parentela, rapporti di adozione, rapporti affetti di cuore, quindi che comunque tutela anche in questo caso chiunque sia all'interno di quel concetto di dimora. Quanto costa? Allora, è un'assicurazione che costa 24 euro. Il premio che viene pagato annualmente è di 24 euro. L'importo non è frazionabile e deve essere versato in un'unica soluzione. Ricordiamo che è entro il 31 di gennaio, quindi sta per scadere. Allora, il 31 di gennaio è un appuntamento ormai annuale che hanno le casalinghe e i casalinghi con l'Inail per rinnovare il premio assicurativo. In realtà l'Istituto dà la possibilità a chi già si è precedentemente assicurato di avere un mese a disposizione per poter pagare il premio di 24 euro. Perché comunque assicurarsi è obbligatorio, ma comunque conviene. Perché quanti incidenti registrate più o meno voi all'anno? Allora, gli incidenti domestici che si registrano in realtà rispetto alla platea degli assicurati non sono particolarmente rilevanti, ma perché in realtà è un'assicurazione ancora poco conosciuta e quindi in realtà il casalingo, comunque chi svolge questo tipo di attività non è a conoscenza di quelli che sono anche i suoi diritti e quindi non comunica all'Istituto l'infortunio che gli è occorso. In realtà se lo facesse, avrebbe diritto a delle prestazioni che nel corso di questi anni sono state anche migliorate. Che sono queste qui? Che sono queste qui, esatto. Se voi andate a vedere le prime... Caso gravi. Ma casi gravi, guardi. Inabilità permanente e infortunio mortale. Allora, diciamo che la prima è una prestazione che viene erogata, è una prestazione, una tantum, che viene erogata nel caso in cui in conseguenza dell'infortunio domestico residua una inabilità permanente, ma dei postumi che vengono valutati con delle tabelle INA, che sono le stesse tabelle che vengono utilizzate per i lavoratori, che vanno dal 5, ma comunque è una prestazione. Se invece il danno è più grave, allora viene erogata una rendita diretta sempre per inabilità permanente. I postumi devono essere permanenti. E in più poi, dalle 2019, abbiamo anche l'assegno per assistenza personale continuativa quando il grado di inabilità è pari al 100%. E posso assicurare a titolo gratuito, cioè nel senso senza pagare le 24 euro? Allora, sì, è possibile, solo però per determinate categorie di persone. Dicevo appunto del valore sociale, della valenza sociale di questa assicurazione, che noi troviamo ulteriormente anche nella possibilità che viene data a coloro che hanno tutti i requisiti per essere assicurati, ma hanno una situazione reddituale o personale o un nucleo familiare inferiore ad una certa soglia, di non pagare il premio, perché in realtà il premio è a carico dello Stato. Grazie, dottoressa. Prego. Grazie. Meteo. Meteo.